ciao sono marta ciao sono su rabbi siamo siamo qua per parlarvi del nostro evento che sarà il 26 di ottobre alle ore 21 e sarà un evento un po particolare perché parleremo di energia di energia e di quello che è il mondo dell'energia un mondo importante perché in questo momento dove c'è tanta confusione tanta ansia tanta paura un modo che abbiamo per sviluppare più fiducia e restare più in armonia è proprio quello di lavorare la vibrazione la nostra parte più energetica quello che andremo a fare in questa serata sarà di portarvi a conoscere un pochino di più logicamente perché i tempi saranno limitati avremo un'oretta circa e vi porteremo un po a capire cosa significa lavorare con l'energia il fatto di lavorare con l'energia vi mette in una condizione migliore quando dovete iniziare un progetto perché noi quello che vogliamo passarvi come concetto è proprio l'equilibrio che si viene a creare tra la vibrazione energetica con gli strumenti che noi vi indicheremo e i progetti che volete realizzare quello che come dice su rabbi che andremo a fare non è solamente un lavoro inteso come solo e puro energia ma è proprio il concetto di portarvi a progettare qualcosa a creare qualcosa che vi porta in una condizione diversa in un'armonia diversa in una vibrazione diversa e in questa serata è un po quello che andremo a a farvi sperimentare ecco una cosa che dovete sapere che appunto questo evento sarà sia per farvi sperimentare la connessione energetica e la vibrazione energetica che magari molti di voi non hanno mai approcciato e ci sarà anche un piccolo progetto da realizzare certo il progetto che andremo a fare logicamente sarà breve però avrete modo proprio di sperimentare insieme a noi quello che è il nostro concetto quello che stiamo dicendo quello che stiamo ormai raccontando da tempo e che vogliamo trasmettervi in modo che possiate proprio provare sperimentare su di cosa significa questo è quello che a noi piace tantissimo e penso che questa cosa sia importantissima soprattutto in questo momento una cosa che dovete sapere è che si tratta di un progetto innovativo perché per l'italia è una novità questo congiungere il mondo dell'energia e noi siamo due esperte in questo campo perché siamo delle terapeute oltre a essere delle artiste quindi questo collegamento energia e mix ed art è diventa una cosa unica una cosa completa e proprio per questo quello che dovete sapere è che non è un webinar in cui si entra e si esce questo è un evento è un piccolo corso per cui quando si entra nel corso si vi chiediamo di stare fino alla fine altrimenti vi perdete l'esperienza si è importante importantissimo che comprendiate questa cosa perché effettivamente quando vivete l'esperienza di persona perché comunque la vivrete di persona anche se siamo in video uscire da quello che è quel momento spezzate quella vibrazione quell'energia vale per voi che uscite e vale per chi rimane quindi un rispetto di questo evento è quello che vi chiediamo proprio di rimanere fino alla fine anche perché ci sono le sorprese poi mica è una cosa così pure le sorprese vediamo certo infatti agganciandomi al discorso delle sorprese che di cui parla marta avrete visto all'inizio di questo video che c'è un marchio questo marchio si chiama star i nostri progetti si chiamano star e hanno un sottotitolo che dice la vera star sei tu quindi sarà una galassia di stelle noi stelle che vi proponiamo dei progetti legati sempre alla parte energetica ma in realtà voi siete davvero le stelle ecco perché noi diciamo la vera star sei tu perché se riesci a fare questo connubio tra vibrazione energetica connessione energetica e progetto ti accorgerà però diventerai una star certo noi vi conduciamo per mano noi siamo le vostre guide e nello stesso tempo siamo le stelle quindi siamo tutti comunque accomunati da quello che è questa vibrazione ma soprattutto voi imparerete a creare qualche cosa di diverso quindi vi aspettiamo il 26 ore 21 come dovete fare per accedere a questo evento che vi riconfermiamo che è totalmente gratuito dovete iscrivervi sul nostro sito il sito di marta o sul mio è indifferente una volta che siete iscritti la iscrizione ci serve davvero per raccogliere persone che sono interessate a questa esperienza e è una volta che sarete iscritti vi arriverà un link al quale dovrete collegarvi la sera dell'evento esatto per poter accedere quindi credo che vi abbiamo dato tutte le indicazioni e non ci rimane che dirvi al prossimo evento sì io vi dico anche iscrivetevi perché è un'occasione da non perdere entrate nella nostra galassia venite a fare le stelle insieme a noi insieme a noi esatto bene allora non ci rimane che salutarvi ciao a tutti e a presto e iscrivetevi grazie a tutti